S.S. 19 Terre, cinghiali attraversano la strada. 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 La prontezza di riflessi dell'autista del veicolo è stata decisiva per evitare la collusione con gli ungulati che con molta tranquillità hanno attraversato l'arteria e si sono diretti nelle campagne sottostanti. Per la coppia, protagonista di questa vicenda, solo tanto spavento e paura, ma nulla più. Tuttavia, c'è da sottolineare come l'episodio sia avvenuto su una strada molto trafficata, sia di giorno che di sera, e in più a poche decine di metri da alcune abitazioni, segno tangibile che i cinghiali vivono e bazzicano i pressi dei centri abitati. Andiamo avanti a Sala Consilina. Nei giorni scorsi è apparso un articolo in cui si sottolineava come il comune capofila del Vallo di Diano fosse al primo posto per spese legali. Tuttavia, di fronte a questo rilievo, il sindaco Francesco Cavallone ha inteso replicare, sottolineando come l'amministrazione da lui guidata abbia messo in campo una serie di attività che negli ultimi anni ha segnato un trend positivo relativamente al continuo e costante abbattimento dei costi legali. E' proprio prendendo spunto da quanto scritto e letto nei giorni scorsi che arriva quindi la replica del primo cittadino salesi. Ascoltiamolo. Questa è un'intervista che naturalmente è stata richiesta per dare una chiarezza e una verità. Prima di tutto, Sala Consilina, paragonata agli altri paesi dell'Interland del nostro territorio, è un paragone che non sussiste già come punto di partenza perché Sala Consilina è comunque la realtà più grande del nostro territorio, con il maggior numero di attività, di servizi e quindi è una conseguenza naturale che sicuramente c'è un maggiore condensioso per quanto riguarda tutte le attività che vengono svolte sul territorio. Ma la notizia, voglio dire, è che maggiormente dà fastidio rispetto a dati che sono di tutt'altro livello e io li ho appuntati proprio perché mi sono recato presso l'ufficio finanziario da cui ho desunto questi dati. È che Sala Consilina, rispetto agli oltre 100.000 euro che sono stati segnalati, aveva speso 79.694,53, poco in più rispetto al 2016 in cui aveva speso 66.311,37. Bisognerebbe anche dire che nel 2015 Sala Consilina spendeva 90.452,39, quindi naturalmente c'è stato un abbassamento notevole rispetto a due anni fa e discreto rispetto all'anno scorso. Era credo un chiarimento dovuto proprio per far capire che non è nemmeno vero che Sala Consilina batte tutti perché nel 2017 siamo anche sicuramente di sotto ad un'altra realtà del nostro territorio che è più piccola di Sala Consilina e quindi questo ci dà anche il metro, il quadro dell'intera situazione. Io già otto anni fa da assessore ho fatto stipulare una convenzione in cui effettivamente gli onorari che vengono dati ai nostri legali quando accettano l'ingarico veramente sono ai limiti minimi e anzi ringrazio tutti i professionisti che collaborano con il Comune accettando anche l'ingarico di un determinato livello con delle cifre relativamente basse rispetto alle parcelle che venivano liquidate negli anni passati. Basti pensare che per convenzione una causa davanti al TAR con il Comune di Sala Consilina viene stipulata una convenzione di 2.500 euro, Consiglio di Stato 5.000 euro dove stiamo parlando di organi anche situati nella capitale con una difficoltà logistica di raggiungimento. In questa cifra sono anche le somme che paga il Comune di Sala Consilina per eventuali condanne legali che si hanno in determinate cause che per lo più per il Comune di Sala Consilina si limitano solo ed esclusivamente a dei risarcimento del danno perché per quanto riguarda tutte le altre cause davanti al TAR, al Consiglio di Stato, soprattutto per le opere pubbliche, il Comune di Sala Consilina ha sempre vinto negli ultimi anni. A Salerno invece riunione ieri con il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza presso la Prefettura per discutere di tre importanti argomenti. Prostituzione, venditori abusivi e abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Prostituzione, venditori abusivi e abbandono indiscriminato di rifiuti sull'intero territorio comunale. Sono le tre questioni sulle quali ieri il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha chiesto e ottenuto presso la Prefettura di Salerno la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Dopo un'ampia analisi delle situazioni più urgenti, è stato concordato di svolgere nelle prossime settimane un'intensa azione interforse, concentrata in modo particolare proprio alla lotta alla prostituzione, alla presenza di parcheggiatori abusivi e all'abbandono illegale di rifiuti. Ci siamo visti al tavolo insieme ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato per riproporre le nostre tematiche di sempre, ovvero la necessità di azioni interforse per fare in modo di ottimizzare gli sforzi di tutti e di ciascuno, lavorare insieme Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza per una presenza attiva sui territori. Abbiamo consegnato le nostre valutazioni in ordine alla videosorveglianza che come avrete visto sul corso è stata sostanzialmente ultimata, dessorretta dalla banda larga dell'Open Fiber. Abbiamo chiesto interventi di verifica dell'ambulantato abusivo e della prostituzione, nonché dei parcheggiatori abusivi che ritornano a fare capolino. Insomma, un'azione a 360 gradi, il prefetto ci ha garantito una assoluta collaborazione e noi dal canto nostro abbiamo garantito la nostra collaborazione con le forze di lui disposte. Cambiamo argomento a Teggiano, ieri la conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, un evento ormai divenuto di importanza nazionale per una tre giorni, dall'11 al 13 agosto prossimo, che riporterà tutti nel 1400. Vediamo. Lo storico complesso della Santissima Pietà di Teggiano ha ospitato ieri la presentazione ufficiale della 25esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la kermessa storica in programma l'11, 12 e 13 agosto, promossa dalla Proloco di Teggiano, che sin dalla prima edizione ha raccolto un grande interesse, diventando nel tempo evento noto in tutta Italia. Una manifestazione che negli anni ha saputo cogliere e rafforzare anche l'interesse per la storia del territorio, stimolando lo studio e la ricerca e portando così a riscoprire l'importanza dell'antico feudo di Diano. Dal 1993 a Teggiano sfarzosi abiti medievali fanno da cornice alla festa per il matrimonio di Costanza da Montefeltro con il principe Antonello Sanseverino. La principessa protagonista della festa, con migliaia di visitatori che sin dalla prima edizione hanno popolato il centro storico di Teggiano. Tre le ragazze che in questi anni hanno indossato gli abiti della principessa e che, come spiegato dal presidente della Proloco Biagio Matera, e tra le novità di questa edizione speciale torneranno alla guida del corteo. La nostra manifestazione ha un respiro nazionale, questo lo dico senza nessuna presunzione. Il nostro intento è quello di farla crescere sempre più e quindi unire l'aspetto storico, l'aspetto culturale, le tradizioni, nel nostro caso le famiglie nobili, i feudi, tutto ciò che riguarda la storia che più ha rappresentato e più incuriosito e più piace ed è quella più gradita. Questo credo che è il segreto del nostro successo e questo noi dobbiamo sempre valorizzarlo e portarlo ad una crescita e ad un livello superiore. Saranno presenti le tre principesse che nel corso dei 25 anni si sono succedute. Una sera con Getta Maria, una sera Serenina Delia e una sera Cinzia e Nene, quindi ci saranno tutte e tre. Poi ci sarà la presenza dei sindaci che hanno seguito la storia di questa manifestazione. Ovviamente nel caso del povero professor Giffoni ci sarà un suo familiare in sua rappresentanza. Poi valorizzeremo anche gli aspetti, maggiormente gli aspetti legati agli aspetti religiosi, valorizzeremo per esempio gli semi dei quintieri che erano legati alle parrocchie di Teggiano. Oltre alle novità, anche diverse conferme come l'atteso assalto al castello che anche quest'anno, grazie al contributo della regione Campania, presso il castello Macchiaroli, protagonista della storia in rappresentazione, chiuderà le serate dell'11, 12 e 13 agosto di questa 25esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza. A presentare l'evento, ieri anche il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, che ancora una volta ha voluto rimarcare la necessità di fare rete, al fine anche di offrire adeguate opportunità ai giovani per crearsi un futuro sul territorio. È una manifestazione che di anno in anno è sempre cresciuta, c'è stata molta partecipazione da parte di tutti i cittadini, soprattutto i volontariati. Bisogna ringraziare la Proca per il lavoro fatto in questi anni. È una manifestazione che ha portato tanto arricchimento a questo territorio, ma non solo Teggiano e tutto il territorio. Ma ribadisco sempre lo stesso concetto e dico che gli appuntamenti non si devono chiudere in tre giorni. Gli appuntamenti bisogna crearli perché i nostri territori sono ricchi di storia, abbiamo patrimonio culturale da poter essere invidiati da altri territori, bisogna lavorare ancora di più. Andiamo avanti. Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato l'elenco delle sedi che rientrano nel concorso ordinario per l'assegnazione di nuove farmacie dal 6 settembre in l'interpello per l'aggiudicazione. Vediamo. È stato approvato con decreto dirigenziale numero 390 del 1 agosto scorso e poi rettificato con decreto numero 397 del 3 agosto della Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale UOD, Politica del farmaco e dispositivi, pubblicati sul burco numero 55 del 6 agosto scorso, l'atto ricognitivo delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello e l'aggiornamento della graduatoria. Lo rende noto il sito web della Regione Campania che lo scorso 7 agosto ha pubblicato l'elenco delle sedi tra le quali compare anche Aquara, unica rurale tipo farmacia intero territorio comunale, con indennità di avviamento per 183.000 euro, 4 a Camerota tipo farmacia C nella frazione di Lentiscosa, Romagnano al Monte unica rurale tipo logia con indennità di 90.000 euro, 2 a Pisciotta tipo logia C nella frazione Caprioli, 1 tipo logia C a Santa Marina capoluogo che copre l'intero territorio comunale ad esclusione della frazione di Policastro. L'interpello dei vincitori per la scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare in Regione Campania inizierà il giorno 6 settembre e terminerà il giorno 11 settembre, dopo 5 giorni. Pertanto coloro che volessero partecipare a questo appello sono invitati a verificare il corretto funzionamento dell'indirizzo PEC, sul quale perferranno tutti gli avvisi relativi alla scelta, all'accettazione e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche e a consultare la pagina dedicata del sito della Regione Campania per prendere visione di eventuali aggiornamenti. Questa sera vi ricordo che alla termine del nostro telegiornale alle 20.30 andrà in onda una nuova puntata di Angolo Cusati, il programma condotto e vedeato da Pietro Cusati. Ospiti di questa trasmissione saranno il dottor Silvio Saponara, primario dell'Utc dell'ospedale di Polla e il dottor Luigi De Angelis, primario di anestesia e rianimazione. Dunque questa sera l'appuntamento alle 20.30 per una puntata che chiuderà questa stagione dell'Angolo Cusati che ripartirà poi a settembre. Andiamo avanti a sala consiglina con delibera del Consiglio Comunale. Dello scorso 31 luglio il Comune darà avvio all'abbattimento di un immobile all'incrocio di via Mezzacapo e via Macchia dove sarà costruito un parcheggio. E' del 31 luglio la delibera del Consiglio di Sala Consilina, piano di utilizzazione dei fondi assegnati con decreto 3012-2008, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proposta rimodulazione e piano utilizzazione, approvato con delibera 37-2009, con la quale veniva approvato il piano di utilizzazione delle disponibilità finanziarie assegnate con decreto del 3012-2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ammontante ad un milione di euro, e la numero 27 del 2017. Con quest'ultimo documento si dava atto che la Regione Campania, con decreto riligenziale del 12 settembre 2016, ha disposto a pieno titolo l'accredito della somma di 356 mila euro e che l'ente comune ha provveduto alla liquidazione di 95 mila euro per quota di compartecipazione a interventi di adeguamento del liceo classico Cicerone e 30 mila euro invece per quota di compartecipazione per interventi di manutenzione della palestra e scuola media Giovanni Camera. Inoltre si disponeva di utilizzare la somma ancora non spesa destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate, pare a 94.829,02 euro per la realizzazione di un'area parcheggio all'incrocio tra via Mezzacapo e via Macchia Italiana per 60 mila euro e la realizzazione di un'area parcheggio largo o bassi per 34.829,02 euro. Si tratta dell'abbattimento di un immobile per rendere la strada più larga alla circolazione stradale e creare perciò uno slargo, afferma il sindaco Francesco Cavallone. Provederemo tuttavia più presto alla realizzazione del parcheggio e all'abbattimento di quella casetta. Da domani 10 agosto e fino al prossimo 12 agosto a Valle dell'Angelo si terrà l'evento organizzato dall'associazione culturale Voito Cucina Clandestina. La manifestazione che si svolge nel centro storico del paese prevede degustazioni, musica, laboratori di dieta mediterranea e molto altro. Grazie ad una collaborazione con gli organizzatori di Cucina Clandestina e l'Osteria La Piazzetta, l'associazione Monte Pruno Giovani promuove la partecipazione a questo evento insieme a noti marchi come Averna, Azienda Agricola San Salvatore, Dam Dam Republic, nonché il comune di Valle dell'Angelo e Confusima Felici. Si tratta di azioni finalizzate a proseguire nella valorizzazione della zona di competenze della Banca Monte Pruno al fianco di giovani associati che hanno deciso di restare e continuare a vivere nel territorio dell'Eccilento facendo turismo e sfruttando l'agricoltura. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria a tra poco con la seconda parte. Seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News ripartiamo da Teggiano dove ieri sera si è tenuta l'edizione 2018 di Teggiano Profilo Moda la sfilata organizzata dall'associazione Prometeo. Piazza San Corno a Teggiano gremita per l'edizione 2018 della sfilata di moda promossa ogni anno nel mese di agosto dall'associazione Prometeo preseduta da Salvatore Chirico. È tornata ieri sede ancora una volta raccogliendo un grande successo la manifestazione estiva Teggiano Profilo Moda che da decine di anni consente agli atelier di moda del territorio di presentare le loro collezioni perfettamente integrate con lo stile e la moda attuale. L'edizione 2018 è stata magistralmente presentata dalla giornalista Chiara Di Miele e da Raffaele La Regina. L'evento di punta tra le iniziative dell'associazione Prometeo è stato realizzato grazie al supporto della Banca Montepruno rappresentata ieri sera dal responsabile segreteria della direzione generale Antonio Mastrandrea che ha elogiato l'impegno, la perseveranza e la capacità dell'associazione Prometeo di offrire un evento sempre di altissima qualità. La serata realizzata con il patrocinio del comune di Teggiano ha offerto l'occasione alle imprese del territorio di presentarsi ad un fulto pubblico che ha affollato piazza San Cono e a tanti giovani di cimentarsi nel campo delle sfilate di moda attraversando la lunga passerella preparata per l'occasione in modo egregio e come da veri professionisti. Uno spettacolo che è stato reso possibile anche grazie alle imprese locali con cui si è complimentato il referente dell'associazione imprenditori Vallo di Diano e Giovan Battista di Brizzi, soprattutto anche per la capacità dell'associazione Prometeo di creare un clima di cooperazione e condivisione tra i vari partner in campo, diventando così esempio di come insieme si può crescere. Veri protagonisti sono stati gli atelier di moda che hanno presentato i loro capi in una location attentamente allestita da Flora 2000 e con gli scatti della fotografa Antonietta Santomauro. Bambini e ragazzi hanno sfilato con gli abiti messi a disposizione da Boutique Maclet di Padula Scalo per la moda bimbo. Adelier Luisi spose di Sala Consilina per gli abiti da cerimonie sposi e Fuego Moda di Montesano Scalo per la moda giovane. Spostiamoci nel Cilento dove è stata attivata la Cilento Green Card, la carta turistica dal valore di 4 euro e con validità annuale che permetterà ai possessori di usufruire di importanti sconti e agevolazioni. Vediamo tutti i particolari nel servizio. La Cilento Green Card, il pass per accedere a prezzo agevolato ad alcune delle attrazioni naturalistiche e culturali più affascinanti e talvolta poco conosciute del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, è ora disponibile. La carta turistica si può ritirare presso una delle otto strutture convenzionate. Il Museo Vivente della Dieta Mediterranea, il Museo Vivo del Mare di Pioppi, le Grotte dell'Angelo di Pertosa Oletta, il Museo Naturalistico di Corletto Monforte, le Grotte di Castelcivita, il Parco archeologico di Alea Velia, il Museo Virtuale Paleolitico e le Grotte Preistoriche di Marina di Camerota e l'Oasi Fiume Alento di Prignano Cilento. E inoltre in distribuzione presso infopoint delle associazioni turistiche Cilento Mania e iTourist situati nelle principali località turistiche del Cilento. La Cilento Green Card è un progetto di lega ambiente in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, con i Comuni di Pollica, Morigerati e Camerota, la Fondazione Iridia e la Fondazione Mida, la cooperativa Cilento Servizi SCPA e l'Agenzia di Viaggio Archeo Trekking Cilento. La carta turistica del valore di 4 euro, personale e a validità annuale, permetterà ai possessori di usufruire di uno sconto del 20% sul prezzo d'ingresso delle attrazioni turistiche aderente all'iniziativa. In più, la carta è convenzionata con una lista di strutture ricettive e ristorative, selezionate sulla base dell'aderenza ai principi della dieta mediterranea. Prossimamente la convenzione sarà estesa ai principali porti cilentani, per l'ormeggio delle barche a vela, a favore dei flussi di turismo nautico ecosostenibile. Il progetto nasce al fine di costituire un circuito locale virtuoso per un turismo sostenibile, che contribuisca a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del Cilento. Andiamo negli Alburni, a Roscinio, Casa Passarella. Roscinio Vecchia torna ad essere la casa degli artisti. Infatti, a partire da domani e fino al prossimo 16 settembre, sarà possibile visitare la mostra di Donato Stabile. Vediamo. Arte nella storia a Roscinio. A partire da domani 10 agosto, la Banca Montepruno continua nella sua azione al sostegno della cultura, promuovendo una nuova iniziativa espositive in un luogo particolarmente caro all'istituto di credito diretto da Michele Albanese, il paese da cui tutto è partito, Roscinio, ed in particolare la suggestiva Roscinio Vecchia, sito unesco definita la Pompei del Novecento. L'iniziativa realizzata con il patrocinio del comune di Roscinio punta a fondere la bellezza e l'arte della natura con l'arte dell'uomo, in una mostra allestita dall'artista Donato Stabile all'interno di Casa Passarella, a Roscinio Vecchia, recentemente recuperata. L'esposizione dal titolo Labirinto segue una mostra realizzata lo scorso anno in collaborazione tra Banca Montepruno e Donato Stabile, che ha così contribuito a fare di Casa Passarella la casa degli artisti, rivolandosi il luogo idoneo ad ospitare l'arte e la cultura, così da poter valorizzare e promuovere il luogo stesso. La mostra Labirinto resterà in allestimento fino al 16 settembre e sarà aperta dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Donato Stabile continua così a mettere al centro la sua terra con luoghi, paesaggi e storie. Per l'architetto Iole Giarletta, l'artista nelle sue opere evidenzia qualcosa di rivoluzionario con una nuova geologia del cambiamento e forme inedite di rovina che accompagnano i processi di mutazione dell'ambiente, un universo paesaggistico astratto e immaginario con forme elementari in rispetto della natura. Giarletta spiega come è stabile e sembra lasciare il proprio segno solo spostando pietre o improvvisando danze o disegnando cerchi nell'aria, richiamando così anche il senso del nostro legame con la terra e con le novità della natura. Siamo felici ed emozionati, dichiara il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese, di rinnovare questo appuntamento a Roscigno Vecchia, luogo magico, ricco di storia e cultura. La presenza delle opere di Donato arricchisce la bellezza di Roscigno Vecchia in un binomio artistico e naturalistico inimitabile. Donato, continua Albanese, è un uomo ricco di valori e fortemente legato alla terra di Roscigno, anche per questo siamo particolarmente soddisfatti di poter dare il nostro contributo per far conoscere ancora di più le sue opere, il suo impegno e la sua tecnica. Rientriamo nel valo di Diano a Teggiano, dal oggi 9 agosto e fino al prossimo 16 agosto presso il complesso della Santissima Pietà a Teggiano è possibile visitare la mostra d'arte promossa dalla DB Arte Contemporanea. Il titolo dell'esposizione realizzata grazie al patrocino del Comune di Teggiano è La luce, il sole e i colori. Da questa sera a Teggiano presso il complesso della Santissima Pietà è possibile ammirare le magnifiche opere di Atos Faccincani che in una sintonia di colori raccoglie magnifici e suggestivi paesaggi. È stata allestita dalla DB Arte Contemporanea una mostra di quadri e opere d'arte dal titolo La luce, il sole e i colori promossa con il patrocino del Comune di Teggiano. La mostra resterà in allestimento nella storica e suggestiva sede della Santissima Pietà di Teggiano fino al prossimo 16 agosto con i visitatori e gli appassionati d'arte che potranno ammirare i quadri del grande artista contemporaneo che così come dal titolo dell'esposizione utilizzando la spatola per stendere sulla tela splendidi colori rende le sue opere particolarmente luminose come irradiate da raggi di sole. Diversi i quadri di Faccincani in esposizione alla mostra della DB Arte Contemporanea ma come sottolineato da Michele Di Bisceglie titolare della Galleria d'Arte in questi otto giorni di mostra è possibile ammirare anche opere di altri importanti artisti contemporanei. Ci siamo ispirati ai colori, alla natura che sia di buon auspicio per noi tutti e che i politici tengono conto di una natura bistratata. L'arte è natura, l'arte è piacevolezza e quindi quest'anno abbiamo portato delle novità. Abbiamo Faccincani che è a livello nazionale tra i maggiori coloristi e poi abbiamo per la prima volta qui nel Mezzogiorno d'Italia Gian Brango Asveri. È un rappresentante dell'arte Brut che fa capo al grande, grandissimo di Buffet e poi magari nel corso della mostra spiegheremo bene il significato di questi quadri. Cerchiamo di portare il meglio da queste parti anche se debbo dire che l'approccio dell'arte nella nostra zona è piuttosto problematico però noi facciamo ogni sforzo perché l'arte sia cultura per fare avvicinare soprattutto i ragazzi, anche i meno ragazzi, a questa piacevolezza della natura. Ecco perché abbiamo scelto il mare, i colori, le figure che tanto ispirano i bambini nel caso di Buffet, nel caso di Asveri. Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata.